Ciao sono Gino, mi siamo sempre Gino anche adesso. Allora un saluto a Piero Gallo e sua moglie Teresa e Paolo. Sto registrando questo video perché voglio presentarvi una carenata delle vostre fotografie di Arcieri Franchi. Oggi è lunedì, sono le ore 18 e 5 minuti. Inizio a fare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.